Un Foggia spento e con poche idee cade a Teramo, 2-0 il finale in favore degli abruzzesi allo stadio Bonolis nel recupero della terza giornata di campionato. I rossoneri di Marchionni sono apparsi non al top della condizione, i padroni di casa invece conquistano altri tre punti e si piazzano al secondo posto in classifica. Primo scurio del Foggia con Calumbo che crossa a cercare Rocca ma Lewandowski anticipa in uscita e non si lascia impensierire. Santoro si fa vedere dalle parti di Fumagalli, lancio dai 20 metri ma il portiere dei Pugliesi dice no in due tempi. Al trentasesimo arriva il tentativo dai 25 metri di Gentile, la conclusione è troppo centrale e debole. Il Teramo si accende al quarantatraesimo, a Rigoni su angolo, pesca Ilari che va di testa, la sfera impatta prima sulla traversa e poi sulla riga della porta di Fumagalli, squadra riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa i padroni di casa sbloccano il match, Anelli si lascia strappare palla da Bombaggi, Fumagalli para prima la conclusione, sulla ribattuta ha la meglio però K che trova l'angolino giusto e fa 1-0. Il Foggia cerca la reazione, Curcio ci prova con una punizione da più di 30 metri ma non inquadra lo specchio della porta. A settantasettesimo in volata di Baldè che viene murato in angolo dagli avversari. Sette minuti più tardi il Teramo raddoppia, Pinsauti raccoglie da Mungo e lascia partire un diagonale imprendibile per Fumagalli. Finisce 2-0 per gli abruzzesi, il Foggia interrompe la serie positiva di risultati. Domenica allo Zaccheria la sfida con la Virtus Francavilla.